Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faccio un video un po' particolare, un video in cui risponderò a 30 domande sul calcio. È una challenge chiamata 30 Days Football Challenge, in cui io risponderò assieme agli altri youtuber di YouTube Football Project a 30 domande che hanno come tema centrale il calcio. Vi lascio in descrizione i link degli altri canali in modo che voi possiate andare a vedere gli altri video e confrontare le nostre risposte. Prima domanda, un gol che non dimenticherai mai? Allora, probabilmente direi il gol di Seedorf nel derby Milan-Inter 3-2 della stagione 2003-2004 che ha permesso al Milan di vincere il derby in rimonta. Vinceva l'Inter 2-0, ha vinto il Milan 3-2 con il gol decisivo di Seedorf a 5 minuti dalla fine. Se ve lo steste domandando, sì, da bambino ero simpatizzante per il Milan. Seconda domanda, una partita che ti ha spezzato il cuore? Allora, forse direi Inter-Milan 3-2 della stagione 2005-2006 perché è stata la prima sconfitta del Milan in un derby quando io ero tifoso della squadra rossonera. Tra l'altro il Milan ha perso quel derby all'ultimo minuto con gol decisivo di Adriano e la cosa mi aveva fatto altamente girare i coglioni perché Adriano non è che mi stesse sul cazzo di più e altro non voglio aggiungere perché comunque sto facendo video su YouTube. 3-1 giocatore che non si dovrebbe mai ritirare, direi Buffon. 4-1 partita che tutto il mondo dovrebbe vedere, direi scappoli ammogliati del primo film di Fantozzi, una cosa veramente fantastica. 5-5 un giocatore molto sopravvalutato. Allora, di giocatori sopravvalutati secondo me ce ne sono molti. Uno che al momento mi viene che secondo me è sopravvalutato è Ter Stegen che non dovrebbe giocare al Barcellona. Non è un portiere che mi dà molta sicurezza e non mi sembra adatto difendere i pali di una porta così importante come quella blaugrana. 6-1 mondiale che non dimenticherai mai, scusate, chiaramente il mondiale del 2006 che l'Italia ha vinto. 7-1 una squadra per cui vorresti giocare, il Sassuolo, perché è una squadra con un bel progetto, vengono valorizzati i giovani ed è l'ambiente ideale per crescere con tranquillità. 8-1 una skill che vorresti sapere far bene, la rovesciata. 9-1 un giocatore da cui vorresti dei consigli, gattuso, perché tecnicamente non era un fenomeno, però ci metteva sempre il cuore, sempre l'anima e svolgeva quindi un lavoro importante per la squadra. 10-1 una squadra che odierai per tutta la vita. Allora, io sinceramente non odio nessuna squadra in particolare, così come non sono perdutamente innamorato di nessuna. L'unica che forse mi sta un pochino sulle scatole è il Livorno per delle faccende mie personali. 11-1 una regola calcistica che vorresti eliminare. L'ammunizione quando i giocatori si tolgono la maglia facendo vedere gli addominali pettorani, mi sembra una cosa un po' inutile, cioè perché poi alla fine magari ci sono anche delle ragazze che sbavano a vedere i giocatori a petto nudo. E poi soprattutto se ammonisci un giocatore perché si toglie le maglie, cosa cazzo fai se si togliessi i pantaloni o peggio le mutande? Lo sbatti in galera? 12-12 un giocatore che ha sbagliato essere tale? Felipe Melo perché secondo me ha sbagliato il proprio sport e non dovrebbe essere un giocatore di calcio, io l'avrei visto meglio a fare pugilato sinceramente. 13-13 uno stadio che dovrebbe essere un patrimonio storico? Il Bernabeu perché è lo stadio del Real Madrid, la squadra più titolata al mondo, uno stadio molto bello, molto grande, si vede bene praticamente ovunque e dopo al suo interno trovi una sorta di museo che riassume la storia delle merengues. 14-14 un giocatore che amavi da bambino? Shevchenko perché come ho detto prima da piccolo ero simpatizzante per il Milan. 15-15 una squadra che ami segretamente? Nessuna in particolare. 16-15 un gol che ti sarebbe piaciuto segnare? Il gol di Materazzi nella finale del Mondiale 2006. 16-17 un buon giocatore poco valorizzato? Io direi James Rodriguez che al Real Madrid non è riuscito a esprimere il suo talento anche perché giocava in una posizione non sua. Quando l'avevo visto ai mondiali in Brasile mi piaceva molto, poi al Real Madrid come appena detto si è un po' perso, vediamo un po' se al Bayern Monaco riuscirà a riscattarsi. 18-18 un allenatore che non capirai mai? Mancini secondo me è l'allenatore più sopravvalutato della storia del calcio perché ha vinto tanto ma ha vinto tanto perché ha sempre avuto grandi squadre e questo il suo avere grandi squadre ha dovuto al fatto che secondo me Mancini è un ottimo direttore sportivo barra manager perché sa prendere tanti giocatori forti però non li sa assemblare bene. Infatti io non ho mai capito quali siano gli schemi di gioco di una squadra di Mancini, lo dico sinceramente. 19-19 un gesto antisportivo che ti ha fatto arbiare? Allora a me non piace quando i giocatori simulano e sembra che debbano morire in campo stando per terra a 172 ore, poi quando i giocatori protestano inutilmente quando hanno anche ragione ma protestano inutilmente contro l'arbitro rischiando di mandare nella merda la loro squadra. 20-20 un giocatore di cui vorresti essere agente? Chiaramente Donnarumme sapete benissimi i motivi. 21-21 partita vista da piccolo che ti ricordi? Milan-Inter 3-2 della stagione 2003-2004 come ho detto prima. 22-21 un giocatore che vorresti vedere dal vivo? Lewandowski perché è il mio calciatore preferito. 23-23 una squadra di cui vorresti essere presidente? Il Pavia squadra della mia città. 24-24 inno che ti piace particolarmente? L'inno della Roma perché secondo me è qualcosa veramente di sublime che non ne rappresenta solo la Roma calcio ma rappresenta proprio la Roma città. 25-25 un giocatore che vorresti come fratello? Chiaramente Donnarumme perché in questo modo ci guadagnerai anche io dei suoi stipendi. 26-26 un ricordo indimenticabile allo stadio. Allora quando andavo a vedere il Pavia in Lega Pro due stagioni fa e tre stagioni fa che aveva anche una signora squadra a dire la verità tre stagioni fa non è che ci andassi più di tanto perché andavo ancora a scuola. Due anni fa invece ci andavo più spesso e sebbene la stagione non si sia conclusa nel migliore dei modi perché il Pavia nelle ultime giornate aveva mancato l'agganciamento e il playoff era comunque bello andare a vedere la squadra della mia città. E ricordo in particolar modo l'ultima partita in casa quando c'erano con me altri due miei amici che non era gente con cui andavo a vedere le partite abitualmente ma sono due miei amici di vecchia data e ricordo che uno dei due si era portato da mangiare i panini del McDonald con mezza tribuna che lo guardava male. Poi 27 un giocatore che si merita una carriera migliore Pepito Rossi perché Pepito Rossi secondo me aveva un grande talento ha un grande talento ma purtroppo la sua carriera è stata condizionata da infortuni molto gravi che ne hanno limitato il rendimento. Tra l'altro è anche un ragazzo molto umile ed educato dentro e fuori dal campo e quindi si sarebbe meritato molto ma molto di più. 28 una partita di Champions League che non dimenticherai mai la finale 2002-2003 Milan-Juve vinta dai rosso-neri tra due rigori. 29 un giocatore da mettere nella tua squadra di calcetto di bala perché è piccolino molto bravo tecnicamente bravo negli stretti e quindi ideale per il calcio 5 dove ci sono spazi più piccoli. 30 una squadra che merai segretamente ma nessuna in modo particolare perché io non è che sia veramente così tanto tifoso cioè seguo il calcio però faccio fatica veramente ad afferzionarmi ad una squadra. Va bene ragazzi queste erano le 30 risposte alla 30 Days Football Challenge fatemi sapere come la pensate io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube a iscrivervi alla pagina Facebook a lasciare un commento a lasciare un mi piace a passare per gli altri canali di YouTube Football Project io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi.